Oggi ragazzi siamo qui su... Ma non siamo su Fortnite, cosa sto dicendo? Vi facciamo la intro Oggi ragazzi siamo qui su Google invece che su Fortnite Perché come avete letto dal titolo andremo a fare una cosa abbastanza strana che non ho mai fatto su questo canale Cioè andare a creare un account di Fortnite E come avete letto dal titolo, indovinati a chi andremo a crearlo? Vieni su, puoi pure salire Ciao, buongiorno Cosa ci facciamo qui sotto la scrivania? Cosa devo fare a 45 anni ragazzi? Allora, come potete vedere, come avete letto dal titolo Siamo qui per creare l'account di Fortnite Pinta mia mamma Perché ovviamente mia mamma ovviamente non gioca a Fortnite Quindi di conseguenza non ha neanche un account Mi sembra abbastanza ovvio Insomma, qualche volta con Alias ho giocato Hai giocato con Alias tu? Eh, Alias è una bella forte, è bella forte Però io sono più forte di Alias Ah, sei più forte di Alias? Sì, sì, sì E quindi ragazzi oggi appunto andremo a creare l'account a mia mamma Allora usciamo dagli account chicken serbian Comunque mio papà c'aveva l'account Mia sorella c'aveva l'account Ce l'avevano tutti tranne te Perché tu non ce l'avevi? Perché? Perché sono talmente forte che hanno paura Ah, ho capito Allora nessuno me l'ha mai creato Ovvio, ovvio, è normale Ogni volta che tentavo di creare l'account Voi me lo invidivate Ah, è perché mi troppo forte vi avevano paura Sì, sì, sì Perché non volete perdere contro di me Allora, andiamo a fare sing-up O sing-up, come caccio si dice? Non lo so Allora, nome, cognome e il nome del display Quindi il nome e il username diciamo Allora, che nome vuoi? Allora, eh Anzi no, il tuo nome è Lucia Perché tu ti chiami Lucia? Sei sicura di chiamarti così? Almeno quello? Se non ho l'Alzheimer dovrebbe essere Lucia, ok? Cognome Allora, cognome non credo che nessuno di voi lo sappia Perché sapete che io mi chiamo Esposito Tosse Però il cognome non lo sapete Perché il cognome mio è Esposito Però il suo no Perché ovviamente lei non è tipo figlia di mio papà Cosa di strada Lei non è niente Cioè nel senso non è il cognome Esposito Quindi vediamo ragazzi Se qualcuno di voi riuscirà ad indovinare il suo cognome nei commenti Sono abbastanza curioso Quindi display name Quale vuoi mettere? Allora, vai Allora, Zerbian Mami? Zerbian Mami? Sì Sicura? Sì In effetti Zerbian Papi Zerbian Mami Zerbian Sister Ormai tutto così Va bene, va bene, va bene Ci sta, ci sta raga Sai come si scrive Zerbian? Certo che lo so come si scrive Mami con la Y così? Sì, bravo Ci sta, ci sta Ti ho detto in inglese? 10 10% Bravissimo 10% 10% Sì, quindi 10 su 100 Adesso ci credo di più Ok Allora mamma, c'è un piccolo problema Perché come puoi vedere Invalid Format Mi sa che il nome non gli piace questo nome Ne dobbiamo cambiarlo Perché Zerbian è Zerbian Sì, no, no È Mami che non gli piace Vediamo se così va bene Zerbian Mami Vediamo un po' Ok, perfetto Così gli piace Ok, ok Quindi ora qui siamo sul tuo account Il Launcher TP Games Ce l'abbiamo già Sei contenta? Sì Ok, ok Quindi ora adesso possiamo uscire anche dal mio account qua Finalmente potrò vincere contro Zerbian Sì, non vince neanche No, perché neanche se ti fanno il monumento non la vinci Certo Vincere è facile proprio Allora andiamo su Biblioteca Forte Ottieni Ma cosa sta succedendo? Non lo voglio Dio, è già iniziata una maledizione di Zerbian Pappi Ma cosa succede? Io lo voglio Guarda No, è questo qua è tutto Ottieni Ma che cavolo sta succedendo? Oh Mi sembra Ma cosa succede? Non volete che io Caricamento il tuo Grazie Oh Ho comprato qualcosa mi sa Ma cosa è successo? Avvia, ok Tutto a posto Tutto regolare Allora questo qui è il contratto importantissimo da leggere Tu lo leggi? L'hai letto? Sì, sì Allora aspettiamo 5 minuti e leggilo tutto Ma se vuoi ti faccio un riassunto Fare l'assunto vai Sì Ok Ok letto a posto Perfetto Ho letto Accetta Vedi abbiamo letto Mamma Stiamo entrando su Fortnite Sei emozionata? Sei contenta di entrare? Allora Fortnite Madonna quant'è altro il volume Aspetta che lo devo abbassare Allora C'è una seconda volta che mi viene la tosta nel video Mannaggia Devo prendere qualcosa Te l'ho detto Curati Abbassiamo innanzitutto tutti i volumi Cosa sono questi volumi qui? Non li vogliamo Soltanto i volumi del gioco Ok Guarda che bello il tuo account Guarda che bella sta Ma come fai di averla La skin più rara del gioco Ma Ma come fai di aver sta skin? Eh ma perché Perché? È la skin più rara del gioco questa Mamma ma Come fai di aver questa skin qui? La più rara del gioco Come fai da merda? Non lo so Sto scherzando È la skin base È la più scarsa che esiste Veramente? Sì Come l'hai scelta tu? No 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 È proprio quella di base Non puoi non avere sta skin qui È proprio Quella gratis La più scarsa di tutte Quella che Ok Allora Più o meno ti ricordi questa schermata? Sai com'è Fortnite? Lo sai perfettamente Qua ci giocavi anni Per anni ci hai giocato vero? Certo Sì sì Come no Allora Mamma ti ricordi qualcuna di queste schermate che vedi qua? Te ne ricordi? Non te ne ricordi nessuna Ma stai scherzando Devo dire di sì? Sì Di sì me le ricordo Te le ricordi? Sì 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 Tutte? Tutte Alla perfezione? Perfetto Perfetto Allora Tu come sai perché te le ricordi tutte? Sì C'era la schermata pass battaglia Che questa non la devi vedere per comprare Non devi vedere Schermata sfida Schermata compagli Armadiette Negozi oggetti E un po' di roba Anche questa qui non guardarla Toglila Toglila No 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 Togliamo Togliamo Oh ma devo smettere questa tosse io È preso lo sciroppo stamattina Preso Quindi tu vuoi per caso comprarti qualcosa Vuoi restare con questa skin qua? No no dai compriamo Shoppiamo Vuoi shoppare? Sì 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 Compra meno tu Zebbia Però i soldi li spegni tu ovviamente No no e no Stiamo giocando a Fortnite Ti sto facendo il video Se tu che devi pagare me Perché sto facendo un video con te No no Qui mi sa che non ci siamo capiti bene Dai comprami una skin dai Una bella A una condizione te la posso comprare A soltanto una condizione Ricordati chi ti ha messo al mondo No non è questa la condizione La condizione è che tu vai in partita Da sola E riesci a vincerla No ma sto scherzando Sto scherzando Neanche un miracolo No ma sto scherzando Tu vuoi fare almeno una kill Facciamo il contrario Una o due kill Una o due kill le devi fare Tu però Però io uso il mouse e tu una tastiera Dobbiamo fare una o due kill Va bene? Ok accetto la sfida Accetti? Accetto No facciamo così però Se vinco me ne compri due Vabbè se te ne compro anche 20 Una per me e una per tua sorella Te ne compro anche 20 se vinci Tanto non faremo neanche una kill Fidati 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 Non mi sottovalutare Quindi adesso ragazzi Andremo in partita Mettiamo la modalità singolo E speriamo di riuscire a fare Almeno una kill Una kill Cioè in realtà io spero di non farla Tu invece di sì Ragazzi incrociate le dita Fate il tifo per me Non fatelo Fatelo Allora ragazzi Come potete vedere Siamo in partita Intanto alziamo subito blumi Mamma siamo in partita Ci sei? Benvenuto a bordo del boost battaglia Mettile male sulla tastiera Allora ti dico cosa devi fare Tieni sempre premuto Questo qui giallo E questa è la W Ok Sono le cose fondamentali Ok Hai capito? Va bene Schiacci una barra spazzatrice Per buttarti giù Ok Tieni sempre No no La devo tenere premuta Vai Tieni premuto Tieni premuto Vai Tieni premuto Ok No Sempre così Ferma Ok Allora tu usi il mouse Cioè tu usi la tastiera E io raga userò il mouse Sarà un pochino difficile Anche perché Non ci sono i nostri comandi Dobbiamo giocare Anche perché Vabbè a parte che tu vuoi costruire Ma dove sto volando? Ma sei scarsissima in questo momento Sei la persona più scarsa del mondo In questo momento Ma tu mi hai detto di schiacciare Ma infatti si Però hai proprio Hai proprio i movimenti da botte Hai capito? Luca tu mi hai detto di tenere premuto Metti la mano su lei Quando ti dico schiacciai Tu schiacci è Ok Ok Vai Schiacciai 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 Ok No Scappa 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 Schiacciai Scappa Una volta mi schiacciarla Quando te lo dicono Ah ok Toglieri E togli Schiacci il tasto dalla cosa gialla Rimettilo No togli proprio Togli proprio Togli proprio il tasto dalla cosa gialla Mamma Vai avanti Cosa devo fare? No lì c'è uno Allora Vedi che lì ce n'è uno? Sì Allora lo vedi là? Noi stiamo scappando dalle persone Ma non devo killarlo? Certo Col piccone lo uccidi Tu non hai armi Gli lancio il piccone Con cosa lo uccidi? Con cosa lo uccidi che non hai armi Mamma Gli lancio il piccone Sì Allora direi di andare subito a cercare un'arma Mamma Ok Impenditi per favore E dove la trovo l'arma? Dov'è? Fai uscire da te la tua anima da pro player Devi far uscire Dai Alias Vieni fuori dal mio corpo Alias Alias play Esatto Mi è simpatico Tra l'altro raga tra poco faremo un altro video con Alias Mi è simpaticissimo Allora qui c'è una trappa Ok Arma Ok Arma trovata Arma trovata Arma trovata Schiaccia io appena No Schiaccio io sto schiacciando Ok lei presa Schiaccia uno Anzi schiaccia uno 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 Perfetto Ma uno Porca quando dico schiaccia una cosa Una volta devi schiacciare Ok ora metti schiacciare mano sulla W doppia Appena lo vedi me lo dici che gli do Ah L'ho visto Dai cosa fai? Ah Sì Ucciso Droid Un'uccisione Sono commossa Ce l'abbiamo Come cavolo si toglie Come ha fatto a ucciderlo? Non lo so Non lo so Avevamo detto due kill Avevamo detto due kill Dai dai che ce la posso fare? Siamo già una Ma Matt Ti ho detto Io mi volevo curare tranquillamente Tu non mi stai facendo curare Ah è ok Ma devi dire a me come mi devo curare Ma se sto spiegando da te Siamo tutta la partita qui ferma Mi devo andare a dare lo cittino anche a te Per passarti la tosse Metti tutto in mano Dai allora Solo la W doppia Solo la W doppia Ok ferma No basta Solo quella Ok E tieni premuto su lei Quando io ti dico schiacciare La devi schiacciare una volta Non venti Ok Va bene va bene Ho capito eh Non sono mica Zerbian Dai Mamma Sei pronta Devi killare tutti eh Sì Con la E devo killare Sì Va bene vai Ma non c'è nessuno Uno avanti salta salta Uno avanti Salta salta Come faccio a saltare Veloci stiamo morendo Salta 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 mamma Ma come faccio a saltare Come faccio a saltare Cosa è successo Non c'è nessuno Ti stavo trollando No Stato Stato La cattiveria di Zerbia Non ti sei accorta Che non c'era nessuno Fammi capire Ero troppo concentrata Ho detto magari lo vede lui Che ne so io Mamma prendiamo il rift Sai cos'è Questo qua qua davanti Quando ti dico io salta 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 No 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 Mannaggia dai ferma Ferma una volta Schiaccia Apri 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 Ok brava Ferma Appena vedi qualcuno Dobbiamo pusharlo immediatamente Ok E come faccio io a pusharlo Ehm Eccoli lì Eccoli lì Mamma è il nostro momento Lo vedi Lì dentro c'è uno Allora Se lo chiamiamo Veramente facciamo un record mondiale Della persona più scarsa Che chi l'ha Perché veramente tu sei Fai ridere Allora è qua dentro Tu sei qualcosa Preparati mamma preparati Quando lo vedi Devi saltare Luca mi devi dire Ah due 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 Salta E' qua sopra E' qua sopra No ma non schiacciare altri tasti Salta Marca miseria Mamma devi saltare Ok forse Qua dentro ferma Basta 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 Allora dovrebbe essere Da queste parti Preparati Ok Preparati mamma preparati Salta 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 Niente ma non schiacciarlo Perché fai solo casino Salta Perfetto vai avanti No 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 Vai 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 Dai Zerbia Ma ti sei fatto uccidere così Purtroppo Non ti dovrò sciopare Nessuna skill Dico purtroppo No ma tu l'hai fatto apposta Sei scarso Più del solito Zero skin Per te Mi spiace Zero skin No 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 Rifacciamone un'altra No 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 E io ti dico anche un'altra cosa Ti dirò Mentre stavamo Tu mi hai trollato prima Perché non mi hai detto giusto Mentre stavamo combattendo Tu per sbaglio Hai preso Hai lasciato giù il pompa Hai preso un'altra arma Io col pompa la potevo uccidere E tu cosa hai fatto L'hai lasciato giù No 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 Allora ascoltami Vuoi un consiglio Non fare mai il professore L'insegnante Perché fai schifo Quindi ragazzi Spero che questo video Con mia mamma Mi sia piaciuto Purtroppo No mi ha trollato Non vale Non vale Non voleva Dai adesso Che sfiga abbiamo vinto Mi fai uno Mi compri una skin Che sfiga abbiamo vinto ragazzi Che non siamo riusciti Mi compri una skin lo stesso Siamo stati La compri a tua sorella la skin Non compro niente Dai 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 Ragazzi purtroppo Siamo stati sfigatissimi Non siamo riusciti a fare neanche Una vittoria reale Mia mamma Purtroppo Ma dico purtroppo Non è riuscita a ricevere le sue cose Quindi niente No no mi ha trollato ragazzi Non è valido Non è valido Mi raccomando ragazzi Prima che finiscono i video Lasciate subito un bel like 10.000 like Per fare un altro video Con mia mamma Andate nella shop Utilizzate il mio codice creatore HZN Per non perdervi Tutte i suoi contest Che fa Quasi tutti i mesi E poi Iscriviti al canale No già detto Iscriviti al canale La campanellina Per non perdervi tutti i miei video Che faccio ogni giorno alla 1.30 Perfetto E da questo ragazzi Noi ci vediamo Quando non sbaglia Altrimenti 1.30 di notte E da questo ragazzi Ci vediamo Un prossimo video Ciao Ciao Scofu Ciao Ciao Grazie a tutti.